Patek Philippe Complications, l'evoluzione delle complicazioni in Patek Philippe. Gli orologi con diversi calendari sono il legittimo orgoglio della manifattura Patek Philippe. L'orologio con un calendario può essere approssimativamente suddiviso in quattro categorie, calendari semplici, calendari complessi o perpetui, calendari annuali e calendari con altre complicazioni. I calendari semplici sono programmati per visualizzare 31 giorni in ogni mese e quindi devono essere regolati 5 volte l'anno. Questi orologi sono un'opzione più accessibile per chi cerca una funzionalità di calendario senza le complicazioni di una regolazione costante. Il calendario annuale è in grado di distinguere tra mesi di 30 e 31 giorni, ma è inferiore a febbraio e quindi necessita di un aggiustamento una volta all'anno, il primo marzo. Ancora più perfetto è il calendario perpetuo, il cui meccanismo distingue il numero di giorni in tutti i mesi, compreso il febbraio intercalare. Questi orologi sono in grado di tener traccia in modo completamente autonomo dei giorni in ogni mese, anche durante gli anni bisestili. Sono considerati una delle massime espressioni di orologeria di alta classe e rappresentano una sfida tecnica straordinaria. La casa svizzera è famosa per aver creato orologi con una vasta gamma di complicazioni aggiuntive, come cronografi, ripetizioni minuti e persino tourbillon. Queste complicazioni aggiuntive aggiungono un ulteriore livello di raffinatezza e complessità agli orologi. I primi calendari sono apparsi in Patek Philippe poco dopo la fondazione dell'azienda, a metà del XIX secolo, naturalmente, questi erano orologi da tasca. Nel 1925, Patek Philippe convertì l'orologio da donna con calendario perpetuo 1898 in un orologio da polso, diventando così il primo calendario da polso della manifattura ginevrina. Si scopre che il complesso calendario da polso di Patek Philippe è apparso prima di quello semplice. I calendari perpetui sono diventati il marchio di fabbrica del marchio ginevrino. Patek Philippe sviluppa da oltre 40 anni il suo calendario perpetuo più famoso, l'iconico 3940. Ogni orologio Patek Philippe è il risultato di meticolosa attenzione ai dettagli, con componenti realizzati internamente e finiti a mano. Gli orologiai della manifattura lavorano con passione per produrre orologi di altissima qualità e questo si riflette nelle loro creazioni, compresi gli orologi con complessi calendari. L'eccellenza tecnica di Patek Philippe è evidente non solo nei movimenti, ma anche nelle finiture e nei dettagli dei quadranti e delle casse degli orologi. La combinazione di artigianato tradizionale e innovazione tecnologica è ciò che rende gli orologi Patek Philippe così ambiti e preziosi. Gli orologi con calendario di Patek Philippe rappresentano un'eccezionale combinazione di artigianato tradizionale e innovazione tecnologica. Sono altamente ricercati da collezionisti e appassionati di orologi di lusso in tutto il mondo per la loro bellezza, complessità e qualità. Se desideri acquistare un orologio Patek Philippe con un calendario, assicurati di rivolgerti a un rivenditore autorizzato o a un'asta d'arte affidabile per garantire l'autenticità dell'orologio.